Ciao a tutti, la parola ai tifosi perché questa sera saranno proprio i tifosi delle fere ad analizzare la prestazione di ieri contro il Cosenza lo faranno nella trasmissione al Bar dello Sport che si terrà su M.Terni Channel, canale 84 del Digitale Terrestre oppure sulla pagina Facebook o sulle piattaforme social e sito web di M.Terni Channel sarà presente la diretta della trasmissione di questa sera dove appunto i tifosi delle fere parleranno sia della prestazione di ieri sia ovviamente della Ternana in generale e sia anche delle dichiarazioni del tecnico, del vice sostanzialmente allenatore di Lucarelli Richard Banigli nel post partita che si è comunque reso soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi perché la Ternana di carattere ha provato a giocare e a vincere soprattutto la partita fino all'ultimo secondo anche in 10 contro 11 e oggettivamente in 10 contro 11 la Ternana poteva far male davvero al Cosenza peccato per un rigore possiamo dire non dato il primo su partipilo dal Bar e peccato per il secondo ma il secondo forse era corretta sul secondo la decisione del Bar perché effettivamente prende comunque la palla sposta la palla e poi partipilo per cui a essere pignoli non era rigore però sul primo ci sono tantissimi dubbi anche ripetendo le immagini comunque un contatto c'è è al limite tra il fuori aria e il dentro tra la riga e quindi leggermente fuori o dentro però però c'è recriminazione e poi ovviamente c'è la recriminazione in partita totale nel senso che comunque la Ternana ieri aveva l'occasione e secondo me sono due punti persi perché comunque aveva l'occasione sull'1-0 di poter raddoppiare stava giocando molto bene purtroppo paga non aver chiuso la partita cosa che devi fare e paga la disattenzione difensiva di Sorensen che è costata cartellino rosso, pulizione e gol poi anche lì lasciamo stare che sul gol c'era probabilmente c'era un ponte su Capuano non fischiato per cui ti cambia tutta l'azione la punizione a favore tuo per cui non vanno avanti però al di là di questo ci sono delle discriminazioni per le fere che comunque come ha detto anche nella giornata di ieri il presidente Bandecchi su Instagram ha piantato un seme per le prossime partite e la mentalità possiamo dire che è questa una mentalità di una squadra che è in campo 90 minuti su 90 compatta e con l'obiettivo di vincere la partita e speriamo che questo verrà riproposto nella trasferta di Parma vi dico che il centro coordinamento di Rana Clubs e la Rocca Rosso Verde organizzeranno il Pullman per partecipare a questa trasferta che si giocherà credo sabato pomeriggio alle 2 sabato prossimo e nel frattempo questa sera chi ha piacere può sentire l'opinione di alcuni tifosi delle fere nella trasmissione al Bar dello Sport dopo cena su AM terni channel terni channel